vera che no grazie così non mi avevano mai presentato e abbiamo chiuso possiamo andare tranquillamente inizio normalmente come funziona la presentazione io inizierei a discettare del libro per un tempo che va dei 5-10 minuti voi vi annoiate e poi andiamo alle domande invece cerco di andare un pochino più rapido e inizierò dalla fine giuro non ci sono spoiler tanto lo sapete che assassino è il maggior dom esatto se mi dici che sono brutta non stai argomentando nel merito se mi dici che sono vecchia non stai argomentando nel merito se mi dici che sono stupida e idiota superficiale non stai argomentando nel merito se metti di mezzo i miei tatuaggi i miei orecchini i miei capelli i miei occhiali non stai argomentando nel merito se mi dici che la mia è solo ideologia non stai argomentando nel merito se mi accusi di essere parte della sinistra pseudo progressista o fucsia non stai argomentando nel merito se mi dai della femminista repressa non stai argomentando nel merito se fai commenti come si capisce perché i tuoi fidanzati ti lasciano sei insopportabile non stai argomentando nel merito se ritieni di dovermi insegnare l'italiano non stai argomentando nel merito se commenti senza aver letto guardato ascoltato quello che ho scritto video registrato registrato non stai argomentando nel merito se fai del benaltrismo cioè dici che i problemi sono ben altri di solito senza sapere quali sono i problemi di cui parlo io non stai argomentando nel merito se nel tuo commento ci sono esortazioni come ripigliati o studia o apra un libro o si occupi di qualcosa di più utile non stai argomentando nel merito se il tuo commento è che schifo cringe, orrore, vergogna e questa sarebbe una che ha studiato ecco non stai argomentando nel merito se mi definisci isterica, saputella, maestrina radical chic oca, capra, intellettualoide beh, non stai argomentando nel merito se il tuo commento è che noia che palle beh, non stai argomentando nel merito ma anche beh, passa oltre la vita è troppo breve per diventare sfogatoio di chi non è in grado di relazionarsi in maniera serena e costruttiva con le persone che incontra sui social e se dopo tutto questo fai una serie di post sul tuo profilo per lamentarti del fatto che non sono democratica perché non tollero il dissenso beh, ti ricordo che non stai argomentando nel merito non pensavo di aver scritto una pièce teatrale però l'hai citata bene l'ho amato molto libro sui veleni che ci ammalano e ci danno fastidio e che ci intossicano quotidianamente sui social è un libro che nasce sostanzialmente da una tua esperienza personale si sente proprio che c'è tanto di quello che hai vissuto quindi prima di iniziare a entrare nel merito ti chiedo l'esposizione a tutti questi veleni cosa ti ha fatto? Cioè qual è effettivamente l'effetto che hai ritrovato sulla tua vita nell'essere esposta ai 15 veleni che trovi qua e che poi hai scritto in questo libro? Allora intanto buonasera grazie Simone che si ha fatto due ore e mezza di macchina per venire qui mi sento moltissimo in colpa adesso ma vabbè poi ti farò un bonifico sì non c'è problema lascio le pari è molto è un grande privilegio quello di poter chiedere amici e amiche di presentare un libro insieme perché poi vengono sempre fuori delle cose inattese per esempio ecco questa recita teatrale di un pezzo mi ha colpito molto perché ancora non era successo quindi grazie quindi un 20% in meno subbonifico con questa meravigliosa ma tu sei tu sei Simone e quindi sapevo dove andavo a parare nel chiedere di te allora devo dire due cose la prima sicuramente ci sono stati momenti della mia vita negli ultimi soprattutto negli ultimi dieci anni in cui l'odio ha fatto molto male l'odio online ed erano momenti in cui c'era già una situazione difficile nella mia vita per cui non lo so momenti in cui magari mi stavo lasciando con qualcuno oppure avevo particolari difficoltà lavorative o avevo problemi con mia figlia o con i miei genitori o questioni economiche quindi su una situazione già di fragilità quando le persone ti dicono cose brutte beh arrivano a segno quello che un po' mi ha salvata è che io rispetto a molte altre persone ho un grande privilegio quello di poter sublimare l'odio che mi arriva scrivendoci per esempio dei libri sopra quindi i libri che io scrivo nascono sempre da una combinazione di fattori un fattore è la richiesta di editori che mi spingono a scrivere di qualcosa e in questo modo in un certo senso mi costringono ma è una costrizione benevola a ragionare su un argomento io amo molto queste relazioni che ho con molti editori in particolare sono tutte editrix sono tutte donne quelle che mi seguono nei miei vari progetti che mi dicono potresti scrivere un libro su questo argomento allora la mia prima reazione è sempre no non ho niente da dire poi a bocce ferme ci ragiono un po' e mi rendo conto che invece potrebbe avere un suo senso anche nella progressione del mio pensiero perché e questo è l'altro fattore grazie al cielo ho la possibilità di scrivere libri che servono in primo luogo a me per mettere ordine in un settore dei miei pensieri o della mia conoscenza e quindi c'è questo doppio binario diciamo così non è indifferente cioè c'entra diciamo con la creazione di questo libro anche la sorte molto poco fortunata di una mia cara amica che è Michela Michela Murgia perché io sono convinta che ci sia qualcosa di molto olistico nella relazione fra corpo e mente non escludo che tutta la merda che le è arrivata per anni abbia avuto un'influenza anche sulla sua salute fisica e quindi siccome noi che eravamo in contatto con lei la degenerazione del suo stato l'abbiamo vissuta io e molte altre persone anche molto più vicine a lei l'abbiamo vissuta davanti ai nostri occhi c'è stato un momento più o meno un annetto e mezzo fa in cui ho detto io non voglio che la mia esistenza venga intaccata da quello che succede sui social la mia esistenza può essere intaccata da quello che succede sui social in senso positivo nel senso che mi piace l'interazione fra la mia online la vita online e la vita offline ma non voglio che queste persone che non conosco oppure se conoscono sono certo mie intime abbiano il potere di influire sul mio benessere perché il mio benessere deve stare altrove però a volte non basta bloccare a volte non basta girarsi dall'altra parte anche se ultimamente non ho nessuna remora a farlo perché cioè va bene che devo stare a ascoltare tutti la democrazia eccetera ma c'è anche c'è anche un limite oltre il quale a mio avviso non ha senso insistere con le persone questo di caso mai ne riparliamo perché ne parlo anche nel libro però ho pensato da queste esperienze da quello che a me persona diciamo micro personaggio pubblico perché i miei numeri non sono certo da grosso personaggio pubblico cioè posso vivere una vita tranquilla più o meno un incognito il 99% del mio tempo ecco da piccolo personaggio pubblico quello che accade a me può diventare qualcosa di utile anche per le altre persone e in questo io sono molto gramsciana cioè ho avuto la fortuna di studiare ho avuto la fortuna di avere un mare di esperienze che magari altre persone non sono state possibili e Gramsci a un certo punto in uno dei suoi tanti passaggi delle lettere dal carcere dice che se uno raccoglie conoscenza senza pensare a come ricondividerla è un po' come un contadino che raccoglie le sementi in un silo in un granaio e poi lo lascia marcire lì e quindi mi sembrava umbilicale che l'esperienza o i miei pensieri non perché siano particolarmente geniali ma semplicemente che sono pensieri sono lucubrazioni rimanessero lì nel cassetto e quindi quando Marianna Aquino che è la mia editrix di Longanesi mi ha detto perché non ci scrivi un libro non pensavo di tornare sull'argomento social media invece sono stata molto felice ed è stato molto catartico per me perché voi sapete è quello che si fa con lo psicologo quando tu riesci a nominare a dare un nome alla cosa che ti fa male poi la riesci a guardare in faccia mentre se te la tieni dentro a volte ti scava delle trincee delle fosse che poi fanno male si incistano e così insomma io me ne sono liberata in questo modo secondo te anche per tutte le persone che sono qui presenti qual è il sintomo del fatto che stiamo venendo avvelenati stiamo subendo un avvelenamento dai social quali sono i sintomi di questo avvelenamento allora io credo che siano un po' diversi per ognuno di noi e anzi capire qual è il sintomo che indica l'avvelenamento forse è la chiave di lettura nel momento sto troppo tempo sui social sono troppo colpita da ciò che gli altri pensano di me non riesco a non commentare tutto quello che mi passa sotto il naso ho bisogno di condividere la foto di ogni piatto che mangio ognuno di noi qualcuno ride ma questa è una cosa ve lo godete il vostro brasato in santa pace senza doverlo condividere sul vostro instagram è una cosa importante quindi credo che ognuno abbia un sintomo nel mio caso il sintomo era di dipendere troppo dal giudizio altrui poi questo si intreccia un po' alla mia esperienza di vita soprattutto io ho sempre avuto un problema con l'autopercezione della mia corporeità infatti domani farò una lezione nel ciclo ossessioni della scuola Holden proprio su questo parlando della relazione fra cibo e parole per cui io sono molto delicata quando le persone mi fanno un commento su come sono e in generale questo mi ha fatto diventare molto delicata rispetto a qualsiasi tipo di commento anche rispetto alla mia preparazione eccetera anche perché è una vita che mi sento dire che sono un impostora in sostanza quindi ho dovuto far crescere un po' di cotenna da questo punto di vista ecco per me il discrimine il limite del benessere è stato quello cioè come faccio a sganciarmi dallo strapotere del giudizio altrui su di me giudizio dato da persone che ovviamente non mi conoscono cioè magari hanno incrociato una mia foto casuale o un mio pensiero decontestualizzato però credo appunto che non ci sia un unico sintomo direi che però la manifestazione generalizzata di questo sintomo è la sovrabbondanza di parole cioè questa sciatteria con cui la parola viene usata un po' a tutti i livelli perché è una questione assolutamente trasversale cioè dalla politica ai giornali ai vip alle persone comuni qualsiasi cosa questo voglia dire c'è un non si ricerca come diceva Calvino la scintilla che sprizzi dallo scontro delle parole con nuove circostanze no? si parla come viene e questo soprattutto quando una persona ha un ruolo pubblico secondo me è gravissimo perché crea a sua volta un fastidio generalizzato a cui non sappiamo dare un nome un fastidio nei confronti della comunicazione perché le parole quando le perusiamo si consumano per esempio se adesso io dico resilienza il cringe c'è stato il brivido in sala come una volta attimino povera resilienza era una parola che aveva un suo senso una sua dignità indica una proprietà dei materiali della fisica dei materiali poi è passata alla psicologia diciamo per cui si parla di resilienza di una persona la capacità di reagire diciamo alle avversità eccetera eccetera il problema è che poi resilienza è stata applicata a tutto cioè dalla pasta resiliente della pizza alle suole resilienti delle scarpe quando la parola aveva già finito il suo ciclo di vita e stava già sulle scatole a tutti ecco che entra nella sigla PNRR il che per me è stata una dimostrazione meravigliosa di come a volte il nostro mondo politico sia sganciato dalla realtà ma no è soltanto in eurovisione arriva un mezz'ora 40 minuti dopo no è come blob no è ghezzi sono un po' fuori sincrono sì esatto ha quelle piccole latenze rimaniamo sulle parole questo è un libro che è basato sul concetto di social network cioè gli antidoti sui social network abbiamo network come parola ma abbiamo anche social e se andiamo a vedere l'etimologia di social che arriva da società insomma società è arriva dal latino e significa poi sostanzialmente sociale significa unire in realtà poi quello a cui noi tutti stiamo diciamo assistiamo e che sui social siamo tante individualità tante solitudini connesse perché compare questo tema nel libro la deumanizzazione che nasce dall'interazione uomo macchina uomo cioè se voi ragionate e scrivete sui social vi rapportate con la macchina e non pensate quasi mai che dietro la macchina ci sia una persona non avete questa percezione la solita cosa per cui se vai al bar a dire quello che normalmente hai commentato sotto a qualcuno ti trattieni perché rischi lo sganassone certo la domanda è prima di tutto com'è che si è questa degenerazione cioè nasce anche dal modo in cui noi ci siamo approcciati sui social network con la lingua dei social network la deumanizzazione o meglio questa è la mia opinione secondo te perché siamo passati da qualcosa che doveva unire la grande facebook nasce come l'albo delle medie sostanzialmente del college e poi siamo arrivati invece a considerarci soltanto delle iconcine che compaiono sulle nostre timeline e appunto se volevi dire due cosine sul capitolo della deumanizzazione che secondo me è straordinario da questo punto di vista uno dei punti di partenza da cui tutti dovremmo partire nell'approcciarsi ai social grazie al cielo grazie al cielo buoni buoni maestro nel senso che senza se non avessi letto il libro di Chiara Volpato che si chiama proprio deumanizzazione forse non avrei saputo dare un nome a quella cosa che vedevo accadere davanti a me ma che stava succedendo anche a me perché anch'io ho commesso il reato di deumanizzare che avevo dall'altra parte anche a mie spese comunque su questo caso mai torneremo allora ci sono due cose che vorrei dire rispetto alla questione della deumanizzazione la prima Marshall McLuhan Tempori Busillis aveva parlato di villaggio globale e quindi dell'idea che i mezzi comunicati i nuovi media che poi nuovi hanno 40 anni poracci ma insomma tanto nuovi sono giovani come me i nuovi media avrebbero creato delle nuove piazze anche virtuali dove le persone sarebbero state felici di interagire di scambiarsi cose eccetera dopo non tantissimi anni da questo paradigma diciamo cognitivo nei confronti della rete che era stato messo in giro da McLuhan arriva un altro sociologo dei media che è Manuel Castells e Manuel Castells dice oi boh invece di fare il villaggio globale abbiamo fatto la periferia di villette a schiera personalizzate nel senso che abbiamo creato un mezzo che è talmente su misura che può essere talmente su misura che ci possiamo isolare perfettamente all'interno del nostro cottage diciamo che ha tutte le comodità e non abbiamo più bisogno di guardare chi c'è dall'altra parte dello steccato ovviamente questa roba questi meccanismi hanno un nome dietro a questi meccanismi che non nascono per essere perversi e per isolarci ma nascono con l'intento di farci stare su queste piattaforme ovviamente c'è l'algoritmo i famosi algoritmi il problema è che la maggior parte delle persone frequenta la rete senza averne consapevolezza e quindi per esempio io lo so che se apro il mio facebook trovo una quantità in vereconda di contatti che parlano di questioni di lingua più o meno col tono con cui ne parlo io però so anche che questo effetto di omogeneizzazione del pensiero è dovuto all'algoritmo e quindi so che appena mi affaccio trovo un mondo di gente che invece va dietro al generale vannacci lo vediamo nei numeri peraltro e lì tragicamente mi rendo conto di una minoranza diciamo così la famosa ecocamber la famosa cassa di risonanza sì cioè tu sei in una stanza in cui tutti sembrano pensarla come te ma è solo una stanza e poi prendi il 3% alle elezioni e poi prendi il 3% alle elezioni esatto vabbè ancora non mi sono candidata quindi questo problema non c'è però sì il punto è quello siamo tantissimi è finita è finita centro-destra e poi il giorno dopo sei in un angolo lì che piangi la cosa degli exit poll è bellissima non so se avete presente che molto spesso dagli exit poll sembra che vinca la sinistra poi invece vince la destra e non mi ricordo qualcuno un sociologo aveva detto perché la gente ha pudore a dire che vota a destra no no io non voto ma intervistano solo quelli con l'eschimo probabilmente questo mi sembra quello che può consigare l'eschimo comunque questa è una questione secondo me abbastanza importante ed è legata all'idea di deumanizzazione dopodiché io sono figlia di un altro privilegio che è quello di essere entrata in rete 28 anni fa e quindi da nerd qual ero a 20 anni nel 95 a me è sempre interessato cosa ci fosse dietro ai meccanismi della rete quando noi ci troviamo una tecnologia scodellata pronta facile di facile reperibilità è normale che non ci interroghiamo su cosa nasconda quella tecnologia no quindi io ho sempre identificato come particolarmente a rischio da un punto di vista cognitivo la generazione di persone non tanto per età ma per età digitale che ha iniziato a stare sui social con facebook e non ha un'esperienza pregressa perché io mi sono fatta le ossa sui newsgroup sui forum sulle chat e quindi sono arrivata su facebook che già aveva una serie di competenze queste competenze però non si insegnano ancora oggi non si sa neanche esattamente cosa insegnare e quindi io ho capito mi sono resa conto personalmente quando è che stavo cascando nella trappola della deumanizzazione la maggior parte delle persone invece questo ragionamento non l'ha fatto ma deumanizzazione vuol dire semplicemente aspettarsi che gli altri esseri umani siano degli assoluti cioè il buono il cattivo l'attivista la lesbica la persona con disabilità una serie di figurine bidimensionali e ci dimentichiamo la tridimensionalità e riprendersi quella tridimensionalità è già difficile in generale ma ancora più difficile quando tu ti interagisci con una persona solo tramite i canali mediati perché hai ancora meno la sensazione della tridimensionalità non so come dire vi faccio un esempio pratico anche fuori dal contesto social perché è vero che il libro parla di social però una delle prime cose che io dico sempre è io credo nel concetto di on life come lo definisce Luciano Floridi cioè che non c'è una dicotomia fra online e offline ma c'è una continuità c'è una smarginatura e il grosso problema anzi che abbiamo oggi è gestire questa smarginatura io ieri ero a Novara a presentare il libro e un ragazzo un trentenne un giovane uomo mi dice ma non c'è bisogno di stare sui social io per esempio non ho nessun profilo e quindi fondamentalmente mi stavo dicendo il tuo libro non mi serve e io dicevo non so che lavoro fai ma è molto probabile che se ti googli no? se ti cerchi scopri l'esistenza di un discorso sul tuo conto di cui tu non hai nessuna consapevolezza fosse anche non so i risultati delle gare di nuoto che hai fatto da ragazzino e quindi secondo me rinunciare del tutto all'esperienza social è un peccato perché qualcosa di buono c'è sì e poi ricordiamoci che anche tutta la messaggistica istantanea Whatsapp Telegram per quanto messaggistica istantanea ben si presta c'è proprio una parte nel libro in cui parla degli screenshot fatti su Whatsapp che poi vengono caricati alla facciazza tua su gruppi profili terze e quarti quindi comunque anche se tu non vuoi rientrare o anche le cose scritte su Whatsapp vengono consegnate in un contesto che noi non sappiamo essere per forza protetto perché a volte sei nei gruppi delle mamme io faccio parte del gruppo delle mamme dell'asilo di mio figlio ma lo faccio come esperimento sociale io lo so che mi sto sottoponendo a qualcosa per cui non dovrei esserci però è un piccolo inferno però è bello ti insegna tante cose quello è il dieta anche perché tu sei mamma mamme io faccio parte delle mamme infatti ho ancora mi sento un po' come il generale Kurz a volte quindi anche i social sono ben oltre sono iscritto a Facebook sono iscritto a Instagram sono attivo su queste piattaforme tutte le volte che noi utilizziamo uno strumento digitale per comunicare con qualcun altro attraverso la rete in qualche modo rientriamo in un contesto di social networking diciamo che partecipiamo al discorso e il discorso va avanti che noi siamo volenti o siamo nolenti e quindi secondo me visto anche quanto vale oggi proprio in termini socio-economici la reputazione fare adottare la tecnica dello struzzo che poi è un falso modo di dire perché lo struzzo non sta con la testa sotto la sabbia ma insomma usiamolo non è la cosa più corretta da fare cioè io sono sempre per la consapevolezza e per la responsabilità comunque io non faccio questa differenza appunto fra online e offline quindi anche la questione della deumanizzazione avevo detto vi faccio un esempio l'esempio è questo il modo in cui noi consideriamo le persone con disabilità stiamo iniziando a aprire la mente rispetto alle questioni alle persone razzializzate rispetto alla comunità LGBTQIA più sulla disabilità abbiamo un doppio standard che è molto difficile da superare allora o siamo abilisti e quindi chi se ne frega se stanno male io la rampa non la voglio fare non so il bagno per disabile è scomodo non lo voglio questo è abilismo tutte le volte che voi entrate in un bagno di qualunque locale controllate se c'è un appendino per gli abiti se non c'è quello non è un bagno per disabili non basta mettere il corrimano il posto da appoggiarsi il tasto ecco voi controllate i bagni che non hanno l'attaccapanni quella roba lì è già un segno ci sono piccole cose però vi fanno capire l'attenzione che ci vuole per parlare di questi per questi temi ecco continuando sempre sui bagni un argomento eccitante quello dei bagni nel senso molto interessante ci sono due cose che volevo dire avete notato che molto spesso c'è il bagno delle donne e degli uomini e poi c'è il bagno delle persone con disabilità e questa è un po' una spia di quello dove volevo arrivare perché seppure siamo una società che progressivamente si prende sempre più cura della disabilità anche se abbiamo ancora tantissimo lavoro da fare molto spesso la persona con disabilità viene desessualizzata cioè noi possiamo parlare di rampe possiamo parlare di scritte in brai possiamo parlare di mezzi che siano accessibili per persone in carrozzina ecco per esempio l'assurdo che un treno moderno come un frecciarossa è Italo uguale ma abbia bisogno del montacarichi per far salire una persona con disabilità io lo trovo terrificante cioè nel senso che nessuno ce l'abbia pensato eppure all'estero ci sono treni agibili in carrozzina c'è stata ora in Corea del Sud e questo problema non c'è anche sui treni ad alta velocità chiusa parentesi laddove la società si ferma oggi è considerare la sessualità della persona disabile i nostri piccoli angeli anche se hanno 60 anni rimangono i nostri piccoli angeli allora lì cosa sta succedendo sta succedendo che la persona con disabilità non può essere tridimensionale è un cartonato di persona c'ha solo la caratteristica della disabilità e il retro non ha altro dietro tanto è vero che mi viene in mente una cosa che mi è successa a Trieste ma l'anno scorso allora ero davanti a un botto di studenti e studentesse perché era un evento scolastico e si parlava di questi temi è una ragazza di terza media bravissima virtuosissima alza la mano e dice io lavoro con le persone affette da disabilità e già io inizio a bestemmiare gli occhi girati in contrario affetto da no non è una malattia è uno stato e quindi di solito le persone con disabilità non amano essere definite affette da disabilità vabbè ma poi dice ma voi dovreste conoscerli sono delle persone meravigliose hanno tanto da dirci sono così forti coraggiose nonostante le loro menumazioni basta ascoltarli e io la blocco e dico è tutto vero ma possono anche essere stronzi e lei ci è rimasta malissimo io intendevo dire cioè diamo a Cesare quel che è di Cesare come tutte le altre persone anche il soggetto con disabilità ha il diritto di essere stronzo cioè non è una geografia ha questa tridimensionalità ecco questo noi ce lo dimentichiamo soprattutto online ma anche nell'offline in realtà quindi vedi che i discorsi sono in continuità sì sì e mi collego a questo perché c'è un capitolo ripeto questo libro è pieno di cose interessanti poi arriveremo a parlare anche dei leoni marini perché ci sono anche i leoni marini qua dentro i leoni maroni è un lapsus di primissima scelta che poi si è letto a più livelli peraltro in chiave leghista si piace a tutti diciamo è bipartisan no le fallacce retoriche le fallacce retoriche ci sono le più conosciute però se uno un po' frequenta il concetto di linguaggio sull'argomento fantoccio è abbastanza adeguato però queste fallacce retoriche noi le troviamo quando parliamo anche con qualcuno al bar motivo per cui non è soltanto una questione di social networking vuoi raccontarci breve la tua fallaccia retorica preferita è quella no in realtà è proprio l'argomento fantoccio lo strumento perché è quello con il quale io sono bersagliata tantissimo io posso la riduzione a Hitlerum per cui quando parli di qualcosa uno ti fa e allora Hitler è un po' come la rucola negli anni 90 si può sempre citare Hitler alla fine di qualsiasi ragionamento però è una forma in fondo di argomento fantoccio cos'è l'argomento fantoccio è prendere una posizione estremizzarla fino a renderla irricevibile e poi farla passare per la posizione originaria quindi tu vuoi abolire i generi mi dicono a me siccome io mando avanti tutta questa cosa sul linguaggio ampio l'attenzione per le persone che non si identificano nel maschile e nel femminile ma è un'aggiunta non è una sostituzione quindi in questo caso l'argomento fantoccio è dire Veragheno vuole abolire il genere maschile e il genere femminile cioè non mi è mai passato per la testa peraltro sono una donna etero cis quindi voglio dire non ho particolare interesse per farlo ma ho interesse perché la lingua offra la sponda a una visione più complessa dell'identità di genere degli esseri umani che non quella binaria maschile e femminile ma è una cosa ben diversa allora sull'argomento fantoccio io sono particolarmente diciamo attenta o infastidita quando lo fanno con me e di conseguenza evito tantissimo di farlo con altri mentre a volte succede che in altre fallacce retoriche mi ritrovi invischiata anch'io da utente per esempio allora la tendenza a polarizzarsi è qualcosa che tocca anche me cioè considerate la mia considerate vostra semenza no quella era un'altra cosa era giusto per scomodare anche Dante ogni giorno c'è l'indignazione du jour voi alzate la mattina e quel giorno la gazzella sa che dovrà situarsi o a destra o a sinistra vi ricordate la pubblicità cioè la questione può essere le foto nude di Arisa l'ultima dichiarazione di qualcuno dei nostri fantastici ministri ad libitum cioè voglio dire è bellissimo chi è oggi che ha detto qualcosa di quando non sai cosa fare apri Repubblica che qualcosa trovi esattamente oppure che so le nuove regole nei confronti dei neopatentati cioè quello che volete voi no allora qualcuno decide qual è il tema su cui quel giorno dobbiamo indignarci e su quel tema tu ti devi situare immediatamente sei di qua o di là ok allora siccome io ricopro un micro ruolo pubblico a me tutti i giorni arriva una richiesta di schierarmi tu cosa pensi rispetto a questo ma tipo che mi chiamano i giornalisti o le giornaliste e io moltissime volte resistendo alla malia dell'anello del potere qui sto citando il signore degli anelli resistendo alla voglia di essere tutti i giorni sui giornali dico non lo so ma come lei non ha un'idea sulle foto nude di Arisa bella gnocca cioè che devo dire nel senso il commento tecnico si ferma a quello buon per lei che ha pensato di farsi foto nude poi di tutto si può fare discorso Jacopo Melio che è una persona con disabilità ha tirato fuori la questione che lei parla di un uomo sano enormo dotato e lui dice vabbè io non sono del tutto sano perché sono un po' sortignacolo però sarei un ottimo marito e quindi ne ha fatto una questione di visibilità delle sue istanze e va benissimo però anche io a volte sento l'urgenza di schierarmi io ho trovato la forma del podcast per ragionare sulle cose da seduta non so se voi frequentate come si dice le serie tv quelle poliziesche ma ci sono i cold case i casi che non sono mai stati chiusi ma sono freddi perché magari io uso il podcast per ritirare fuori i cold case magari tutti hanno discusso di una cosa dieci giorni fa e io poi ci faccio la puntata del podcast e mi serve per tenere la distanza sì però la tendenza a cadere nella polarizzazione ce l'ho anch'io e anche rispondere c'è appunto scrivere qualunque cosa nel momento la famosa fomo che qua viene citata la fear of missing out la paura essere sempre sul pezzo perché se no sei fuori dal circo nel silenzio dei social ecco io ho iniziato a definirmi è un po' di tempo che ho smesso di scrivere sui social network sui miei profili personali o meglio scrivo più raramente ho deciso di essere di coniare il termine minoranza silenziosa perché ormai invece la maggioranza è quella che parla di tutto su tutto e quelli che invece un attimino si fermano sono ormai diventate una minoranza hai detto attimino attenzione attimino a me piace tantissimo rivendico il mio diritto ma parliamo dei famosi leoni maroni che sono comparsi i leoni marini c'è un c'è ci sono i leoni marini in questo vabbè sono sul mio profilo chi frequenta il mio facebook li conosce bene ci sono dei grossi leoni marini chi sono i leoni marini della rete i leoni marini sono quelli avete presente come sono fatti i leoni marini cioè sono molto grossi molto un po' informi sono fatti come delle gigantesche lumache solo che sono molto grossi e poi si muovono in maniera non proprio graziosa diciamo così beh però devo dire che l'imitazione mi ha toccato mi sei arrivata va bene fallo tu no no sto cercando di smettere ok allora eppure guarda anche c'è questi baffi che potresti simulare il triccone Simone comunque cos'è il leone marino sui social è quello che entra in una discussione e ti fa un commento lunghissimo che di solito contiene dei riferimenti arcani ma te li propina come se tu li dovessi conoscere e se non li conosci sei ignorante no tipo come ha sicuramente lei ha letto tutti i lavori del Fonsarkazzevich soprattutto nella parte no e tu dici ma chi è questo Fonsarkazzevich vai a cercarlo e scopri che effettivamente esiste ma tu non ne avevi cioè io era lui il Fonsarkazzevich si è autocitato era il cugino di solito funziona così no no vabbè ma ma io ho piena consapevolezza di non sapere cioè io so di non sapere so che so molto su alcuni argomenti ma per esempio se mi sposto un po' di lato di filologia non capisco nulla cioè filologia a parte voler preservare i testi eccetera ma dico dovessi fare filologia romanza l'ho anche fatto l'esame ma sono ignorante come una capra quindi l'importante è riconoscere i limiti allora quello che arriva non ha nessuna intenzione di confrontarti davvero con te confrontarsi davvero con te quello che vuole è deviare il discorso sull'idea a lui o a lei cari però più spesso sono maschi quindi più lui questo non è un maschile sovraesteso il leone marino è difficile da beccare perché non è quello che ti offende cioè non è quello che dice sei una cretina apparentemente è presentabile ma ti fa perdere una quantità di risorse mentali ti prosciuga no? cioè la tecnica è proprio quella del prosciugarti e però se rispondi male diventi tu la villana se invece ti ci metti a discurre ti infili in un tunnel per cui poi ti trascini sto leone all'infinito e quindi la mia tecnica adesso su facebook è quella di nascondere il commento sapete quando tu nascondi un commento lo vede solo lui il diretto interessato e nessun altro però lui non lo sa che il suo commento e non ricevere like lo fa rosicare dentro si siccome spesso il leone marino sta sfruttando il tuo profilo per avere visibilità non dargliela è uno dei modi per neutralizzarlo pensa a quante ore a cercare Fonsarcazzevic che sto qua passato e tu gli tarpi le ali così e tu gli tarpi le ali così glielo bruci così allora visto che poi tu hai un impegno molto molto stringente dopo a questo punto io lascerei le domande se qualcuno ha delle domande faccio la valletta bionda nel senso che proprio mi piace posso dire una cosa su questo allora esiste anche la versione da presentazione di libro del leone marino ed è la persona che dice la mia non è una domanda è piuttosto una considerazione e poi parte con 20 minuti lo possiamo fare in altri contesti io sono ben felice di ricevere proposte anche via email v.gheno at gmail.com se vi vengono in mente delle cose lunghe delle considerazioni qui invece stiamo sullo stringato volevo lasciare una cosa a tutti voi una cosa importante che è indispensabile lo farai tu non è non ti curare di loro ma guarda e passa la citazione giusta è non ragioniamo di loro non ragioniamo tutte le volte che voi scrivete non ti curare di loro ma guarda e passa state uccidendo è una coltellata nel cuore della povera vera citate bene per favore ma io in generale ce l'ho ammorte anche in un altro libro parlavo delle citazioni come disse come disse Marilyn Monroe se visualizza e non risponde non è amore un famoso whatsapp dei tempi di Marilyn Monroe è pieno di citazioni così e a volte è difficilissimo trovare chi le ha dette per esempio viene attribuito alla Bibbia quel pezzo quello che la donna non nasce dai piedi dell'uomo perché non deve essere calpestata non nasce dalla testa dell'uomo perché non deve stargli sopra nasce dalla costola perché deve stargli accanto l'ho un po' parafrasata come dice la Bibbia non lo dice la Bibbia e non lo dice neanche il Talmud perché c'è la versione più fancy quella esotica come dice il Talmud neanche il Talmud lo dice è un commento alla Bibbia di non mi ricordo uno studioso del 800 ma insomma è una cosa ma non la Bibbia ecco io sulle citazioni sbagliate provo un fastidio particolare e anche sulle vignette di Snoopy dei Peanuts o di Mafalda di Mafalda con le frasi sostituite sono una cosa che mi povero Schultz grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti